ok Roberto iniziamo subito dunque parliamo di un argomento caldo ne parlano veramente tutti in questo periodo parliamo di terrapiattisti cos'è scusami devo guardare lì ma cos'era terrapiattista e appunto dicevo sai cosa sono i terrapiattisti ad esempio no sono dei meriti coglioni che non sanno come va la vita è gente che belin si butta lì a fare delle cose che non sanno neanche dove girarsi è una cosa scusa vabbè non sono pratico quindi io mi incazzo i terrapiattisti ma che cazzo sono è niente